E' dalle 12 di oggi che si sta cercando un 45enne disperso in questo lago artificiale che si trova alla mia sinistra, un lago che si è creato in una ex cava. Siamo nel comune di Anghiari. L'uomo, 45 anni di origini straniere, pare si fosse recato nella zona per pescare insieme ad altri amici. Durante la notte il tuffo in questo laghetto artificiale, un ex cava, intorno alle 10.30. Avrebbe cercato di attraversarlo, forse per rifugiarsi dalla calura estiva e non è più riemerso. Sul posto il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, l'elisoccorso drago e il corpo dei sommozzatori. La pericolosità sono le acque melmose e poi c'è una corrente che riesce a trasportare rami e quant'altro c'è nel fondale del lago. Quindi è molto pericoloso. L'area si chiama Golena del Tevere, la zona è la frazione di Viaio nel comune di Anghiari. Un rifugio dalla calura estiva che in molti scelgono ogni domenica nonostante ci sia il divieto di balneazione con tanto di cartelli. Sì, c'è un divieto di balneazione ma spesso e volentieri viene bypassato. Lo state vedendo anche voi con gente che viene a fare il bagno nonostante il divieto. Sul posto arriva anche la moglie, la coppia risiede ad Arezzo assieme ai loro due figli, entrambi minori.